Telefono 089 30 30 40 Nido dei bimbi dal 1985 un punto di riferimento per mamme e pa tutto per la prima infanzia alimentazione, cosmetica, cattoli, camerette la nostra soddisfazione è il cliente felice seguici sui social Nido dei bimbi un piccolo momento di grande qualità Nido dei bimbi e articoli per l'infanzia raddoppia, prossima apertura a Salerno in via 30 139 a Mercatello Nel quarto giorno di allenamento qui a Jembach in Austria arriva Erik Boteim che si è allenato per la prima volta insieme ai suoi nuovi compagni della Salernitana L'attaccante norvegese questa mattina si è aggregato al gruppo dopo aver fatto un po' di corsetta Nicola lo ha provato subito insieme ai nuovi compagni alternandolo un po' con tutti quanti gli altri attaccanti E subito Boteim ha mostrato grande impegno, grande intensità, ovviamente una grande voglia di mettersi in mostra per lui un'opportunità importante Gioca in Italia nella Serie A, gioca con la Salernitana che ha puntato forte su di lui Boteim che in passato come sappiamo insieme al Bodo si è messo in evidenza, ha segnato anche 7 gol in Conference League Tra l'altro 3 proprio contro la Roma, nelle partite contro la Roma di Murigno E quindi Boteim arriva qui alla Salernitana e arriva con grandi prospettive, lui che è amico di Haaland Ovviamente Haaland sta facendo un percorso ancora più importante ma Boteim sembra avere le caratteristiche per poter fare bene anche nel campionato di Serie A Anche con la Salernitana, ovviamente lo spera Nicola, lo sperano i compagni, lo spera la società e anche alcuni tifosi Che sono tutti qui oggi a Dienbach in Austria ma fra un po' ve li faremo ascoltare Diamo subito un'altra notizia, ovvero che il prossimo giocatore della Salernitana sarà Pirola È stato preso in prestito dall'Inter ma anche su questa operazione come sulle altre trattative di mercato Vi daremo conto nel corso dello speciale tra un po' nel dettaglio Io adesso continuando a parlare di Boteim e dell'allenamento vi facciamo ascoltare un attimo questi pochi secondi Presi, ripresi durante l'allenamento di questa mattina di Davide Nicola perché queste parole penso che dicano un po' tutto Sono già uscito, sono già uscito, posso già portar palo, ho già sei in tre ore E certo che ci vanno di buon ora E avete sentito Davide Nicola, sempre grande intensità, subito grande grinta vuole dai suoi giocatori Fa bene l'allenatore perché è in questa fase della stagione, in questa fase precampionato di ritiro estivo Che si costruisce poi anche il gruppo, che si costruisce la mentalità Abbiamo visto vincente della scorsa stagione, ad esempio l'impresa della salvezza non poteva che essere raggiunta Se non attraverso anche questa grinta, questa mentalità che il mister è riuscito a trasferire alla squadra Per creare un tutt'uno, insomma tutti i giocatori che correvano all'unisono A proposito di correre in campo, questa è una caratteristica che emerge E veramente sembra avere quasi qualcosa di incredibile Tutti i giocatori corrono, nel momento in cui parte il pallone, parte l'esercizio specifico di tattica Tutti si muovono, non c'è quasi mai un giocatore fermo Anche dall'altra parte della fascia, ad esempio se l'azione si sviluppa sulla destra, anche sulla sinistra Ci sono giocatori in movimento, è questo che chiede Davide Nicola insieme a tante altre cose L'allenamento di questa mattina si è svolto ovviamente molto con il pallone, prove tattiche E poi ancora Nicola ha insistito sull'esercizio del pressing sul portatore di palla La capacità anche di trovare soluzioni di passaggio in poco tempo Insomma Nicola vuole personalità, vuole decisioni rapide, vuole insomma grande grinta Sappiamo che Davide Nicola è un grande motivatore e questo lo si vede anche nel ritiro qui in Austria Oltre al 3-5-2, consueto 3-5-2, che sarà l'impostazione base tattica quasi sicuramente della Salernitana 2022-2023 Per un momento si è provato anche il 4-4-2 Più nella formazione avversaria, nel senso che probabilmente Nicola partendo con il suo 3-5-2 Ha voluto mettere alla prova i suoi giocatori contro un ipotetico avversario che possa scendere in campo con il 4-4-2 Ovviamente non diamo soltanto numeri, discorsi tattici che cambiano profondamente Se a centrocampo ad esempio ci sono 5 elementi o sono 4 Quindi discorso degli esterni, se nel 4-4-2 c'è la catena tra terzino, esterno destro, a destra o a sinistra Oppure nel 3-5-2 c'è solo un elemento che deve un po' coprire tutta quanta la fascia Ma come detto qui a Jainbach sono arrivati anche i primi tifosi da Salerno e anche da Monaco di Baviera Ve li facciamo ascoltare Fino in Austria per seguire la Salernitana? Sempre per seguire la Salernitana è una malattia, granata Che aspettative per la prossima stagione? Spero di salvarci quanto prima possibile Vediamo un po' il campionato è duro quest'anno Però io ho piena fiducia nella società È arrivato Boteim, anche il ritiro, l'ovato, come si sta muovendo secondo te la società? Secondo me la società sta facendo ottime operazioni di mercato Ovviamente sarà un'annata difficile anche dal punto di vista del mercato Perché tra Mondiale a Novembre Primo anno di nuovo che ci consolidiamo in Serie A Quindi di certo non possiamo pretendere chissà che Però secondo me la Salernitana sta operando bene Tra entrate e uscite non è facile Abbiamo una rosa di 43 calciatori Tu vieni da Salerno anche tu? Tutti da Salerno, sì, sì, tutti e tre La Salerno è... Per la Salernitana questa è d'altro Tranne tu che sei Salernitana ma vieni da Monaco di Baviera Monaco di Baviera E ho colto l'occasione per seguire la Salernitana anche qui a Gienbach Da Monaco stanno venendo anche altre persone per Ribery Per Ribery, certo Anche perché sono uno e mezzo Quindi molti ragazzini hanno questo idolo Che per fortuna gioca con noi a Salernitana Su chi punti per l'anno prossimo? Spero qualcuno che ci può dare sicuramente una mano In ogni reparto Ora abbiamo visto che c'è il primo allenamento tipo Time Che è anche un ottimo giocatore E speriamo che verranno giocatori con voglia e con talento E adesso approfondiamo i temi che riguardano il calcio mercato Perché il nuovo giocatore della Salernitana sarà Lorenzo Pirola Classe 2002 Un ventenne che arriva in prestito dall'Inter Prestito di un milione che la Salernitana deve versare all'Inter Con possibilità di riscatto Ovviamente al verificarsi di determinate condizioni Una cifra intorno ai 4 milioni, 4 milioni e mezzo Ma attenzione perché l'Inter ha messo una clausola Molto simile a quella prevista per Zaniolo Ovvero la possibilità di una percentuale di rivendita Nel caso in cui ci dovesse essere una nuova rivendita Quindi la Salernitana dovrà poi corrispondere Una cifra anche all'Inter Probabilmente intorno al 15% Così come ha fatto l'Inter quando ha ceduto Zaniolo alla Roma Se adesso la Roma dovesse cedere Zaniolo Arriverà poi una percentuale di rivendita all'Inter Quindi Pirola sosterrà le visite mediche sabato mattina a Salerno E poi domenica dovrebbe raggiungere qui il ritiro in Austria della Salernitana Insieme ad altri giocatori Insieme a Lovato, sappiamo definitivo dall'Atalanta Lovato che ha potuto godere di alcuni giorni di riposo in più Dopo gli impegni con la Nazionale nel 21 Quindi Pirola, Lovato ma anche Lassana, Coulibaly Anche lui ha saltato la prima settimana di ritiro Per chi ha giocato con la Nazionale E verrà anche Veseli Stesso discorso anche per Veseli Dopo gli impegni con la Nazionale Raggiungerà quindi domenica Quattro giocatori verranno qui in ritiro in Austria Altri giocatori andranno qui A proposito delle uscite Si parla di Micai alla Regina Ma non sembra essere stato trovato l'accordo Ancora questo passaggio del portiere di Micai alla Regina Per lui si tratterebbe di un ritorno In uscita ci sono Gimenez, Cavion Due giocatori seguiti dalla Vicenza Iannoni potrebbe andare al Perugia Ma ci saranno sicuramente altre uscite De Sanctis in queste ore è impegnato sul mercato in entrata Ma molto anche sul mercato in uscita Bisogna assolutamente sfoltire la rosa A disposizione attualmente di Davide e Nicola Per quanto riguarda le entrate Detto di Pirola Con la Sampatoria prosegue la doppia trattativa Per Torsby e per Bonazzoli L'accordo di massima tra le due società c'è già Su Torsby ci sono anche altre squadre Anche una di Bundesliga Quindi una squadra tedesca Su Bonazzoli il discorso è ancora diverso Perché è Bonazzoli che deve trovare l'accordo Con la Sardinitana per quanto riguarda l'ingaggio La sensazione è che la trattativa andrà avanti Magari per qualche ora Magari per qualche giorno Ma non oltre Nel senso che se la Sardinitana riesce a chiudere Per Bonazzoli in poco tempo Ok, altrimenti viderà su altri obiettivi Su Torsby invece le percentuali di possibilità Sembrano essere un poco più alte Un poco più alte E poi sempre per quanto riguarda il mercato in entrata È molto vicino anche l'attaccante Valencia 22 anni Cileno Vi stiamo raccontando la tempo di questa trattativa Dovrebbe essere ulteriore rinforzo in avanti Per Davide Nicola Sugli esterni si ragiona con la Juve Per Cambiasso Ma anche per altri elementi Attenzione perché Mazzocchi dovrebbe restare Ma il Monza lo cerca ancora Con grande insistenza Con il Lille Squadra francese si parla di Bradaritz Ma anche di altri giocatori Come il Curco Iazzici E ascoltiamo adesso Mauro Corrente Lo ricorderete Portò a Salerno Merino Alcuni anni fa Lo abbiamo incontrato Qui in ritiro in Austria In ritiro in Austria Qui a Iambach Abbiamo trovato Mauro Corrente Che molti salernitani ricorderanno Ha portato Merino a Salerno Qui per vedere Alcuni giocatori Penso per salutare anche i vecchi amici Sì esattamente Salutare i vecchi amici E una visita Una visita E parlare con Con la società Come ti sembra Questa salernitana Che sta per nascere Sta costruendo adesso Per la prossima Serie A Beh ancora Non si può dire Però io penso Che faranno il tutto Per allestire una buona squadra E già c'è una base Però penso che Che ce la faranno A prendere Una rosa completa Anni fa appunto Mauro Corrente portò Merino Alla Salernitana E fu comunque un grande successo Che è un giocatore Di tantissimo talento Sicuramente ne avrà tanti altri Adesso Mauro Corrente Ma ce l'ho in Svizzera Sì esattamente Comunque Merino è È stato praticamente Un idolo Il Salerno Mi ha fatto molto piacere E spero di Non ho mai portato un altro Perché io spero Del prossimo che porto Deve essere all'altezza Magari potrebbe accadere A breve Ci sta qualcosa Con la salernitana Beh Potrebbe Diciamo Potrebbe Un grande protagonista Qui in ritiro In Austria E senza Frank Ribery È lui Il giocatore Più atteso Dai tifosi Agli spettatori Qui in ritiro In Austria Per foto E autografi Ribery Che la Gazzetta Ha detto Ad esempio Lui che ha vinto tanto Ha detto La Salernitana È diversa Della vittoria Di una coppa Ma mi ha dato Veramente emozioni Immense Quando non vinciamo Vedo i tifosi tristi E questo Mi dà Molto fastidio Parliamo anche Degli abbonamenti Perché prosegue La campagna abbonamenti Per questi giorni Riservata soltanto ai possessori Della tessera del tifoso Granata Card O del mini abbonamento Fino alla fine Dell'anno scorso Circa 3.000 Gli abbonamenti venduti Finora Sono in arrivo Prezzi ridotti Anche in curva sud Dopo l'incontro con il comune Di Salerno L'amministratore delegato Maurizio Milan Quindi ha promesso Che ci saranno Dei ritocchi In curva sud Per quanto riguarda I ridotti Per i ragazzi E anche per le famiglie È una decisione tanto attesa E ci permettiamo di dire Anche giusta e doverosa Perché bisogna dare attenzione Come la stessa società Ha detto Alle famiglie In conclusione Vi ricordiamo Che domani Venerdì È in programma La prima amichevole Qui in ritiro in Austria Contro la locale squadra Dello Jembach 5 euro Il costo del biglietto Per entrare Vedremo ovviamente Domani Vi racconteremo Di ciò che farà La Salernitana In questa prima amichevole Così come nel corso Di questa giornata Ulteriori aggiornamenti Sempre dal ritiro A Jembach Della Salernitana In Austria La Salernitana